carissimi pace pace del signore dio benedica la vostra vita 25 giugno oggi leggiamo nella epistola di paolo e romani capitolo 8 il verso 1 un verso bellissimo è scritto non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in cristo gesù se siamo salvati se siamo nati di nuovo se siamo credenti dunque abbiamo una posizione questa posizione è quella di essere in cristo e questo è ciò che ci assicura il non essere condannati non è la religione personale nell'appartenenza ad una nazione a un popolo una certa organizzazione religiosa ciò che ci assolve dalla condanna del peccato e la grazia di dio che ha provveduto per mezzo di cristo gesù incarnato il mezzo di riscatto e quindi il pagamento di quella prezzo necessario affinché l'anima potesse essere liberata non solo dalla schiavitù del peccato ma anche dal giudizio di dio il sacrificio di cristo infatti ha questo potere perché è stato un sacrificio che dio ha provato e la sua opera di espiazione permette all'uomo peccatore che si accosta a dio con fede di essere riconciliato con lui e per mezzo di questo rapporto che noi abbiamo in cristo come credenti noi cominciamo a dimorare nel signore a camminare nel signore a vivere nel signore e quando verrà a morire nel signore lo scopo di questa unione quindi che noi realizziamo con dio e che frutto dell'opera della croce è la possibilità di permetterci di passare indenni in dinanzi al giorno dell'ira di dio quando egli giudicherà il peccato e di conseguenza i peccatori stessi e come la fenditura di una roccia ripara dalla tempesta coloro che si rifugiano in essa anche quando si trovano in mezzo a tuoni lampi fulmini e venti forti come le città sono un luogo le case scusate sono un luogo di riparo quando ci sono condizioni climatiche molto pericolose così cristo che la roccia dei secoli cristo che il figlio di dio rappresenta l'unico luogo di riparo per il peccatore affinché quando il giorno del giudizio si manifesterà egli possa scampare la sua vita è un po quello che avvenne allora quando venne istituita la pasqua solo coloro che si trovavano nelle case che erano state contrassegnate con il sangue dell'agnello poterono scampare all'angelo distruttore che in quella notte passò in tutta la terra d'egitto e dio sia lodato perché ancora oggi per mezzo del sangue dell'agnello noi possiamo avere speranza e certezza di vita eterna grazie a dio perché per quel sangue noi abbiamo una prospettiva luminosa davanti a noi che quella di poter entrare un giorno nella gerusalemme celeste e dio sia lodato perché questa unione con cristo e questo vivere in cristo non è qualcosa di temporaneo ma di eterno e ci garantisce che siamo eredi di dio e coeredi di cristo gesù così come troviamo scritto nei versi 17 e 18 sempre della stessa epistola di paolo ai romani capitolo 8 se siamo figlioli siamo anche eredi eredi di dio e coeredi di cristo e perciò diceva paolo io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano per nulla paragonabili con la gloria che dovrà essere manifestata al riguardo nostro cioè di quanti hanno creduto nel signore quindi solo se l'uomo è in cristo alla certezza di essere assolto da ogni contanna perché dio non lo guarda più per quello che è ma lo guarda attraverso cristo e lo vede attraverso quel sacrificio perfetto e noi vogliamo veramente avere innanzitutto la certezza di essere nel signore e poi vogliamo ringraziare il signore per aver donato suo figlio affinché noi potessimo passare dalla morte alla vita senza dover subire il giudizio del signore per quanti invece in cristo non saranno trovati ma avranno deciso di seguire la propria visione del mondo e quella strano messaggio secondo il quale tutte le strade portano a roma e quindi tutte le strade portano in cielo per quelli ci sarà una triste sorpresa perché quando si presenteranno davanti al cospetto di dio non verranno accolti ma verranno giudicati e condannati così come viene scritto nella parola del signore e questo perché avranno rifiutato l'unico mezzo di riscatto che è possibile affinché l'uomo possa essere salvato gesù disse infatti io sono la via la verità e la vita e aggiunse nessuno viene al parre se non per mezzo di me non c'è un'altra via quindi c'è una sola via non ci sono tante vie c'è una sola via e paolo aggiungerà nello scrivere a timoto che c'è un solo dio e un solo mediatore tra dio gli uomini e questo è cristo gesù prima timotio capitolo 2 verso 5 il mio desiderio è che stamattina quanti siete in ascolto siete tutti quanti in cristo e se c'è qualcuno che ancora non ha questa certezza e non vive questa realtà voglio darti una buona notizia basta che vai ai piedi del signore confessi a lui i tuoi peccati ti penti ti ravvedi invochi il suo perdono il sangue di gesù ti laverà ti purificherà e tu comincerai ad essere una nuova creatura un uomo una donna che ha piena comunione con dio che vive in cristo gesù e che alla certezza che non per meriti ma per la fede in cristo non passerà per il giudizio ma entrerà direttamente nella gloria di dio quando il signore verrà per stabilire il suo regno eterno che la pace del signore ci accompagna ancora oggi dio ci benedica insieme